Tutto bene? Sicuro? Sì, 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 tutto bene. E allora dai, non hai sentito? Ci sono un sacco di casi da risolvere. Senza di te non ce la facciamo. Io da quando sono entrato in polizia non sono mai stato impressionato da niente, mi ci credi? Mai. Neanche tutti i morti che ho visto mi hanno impressionato. Niente, niente. Io pensavo fosse un problema all'inizio, era diventato un'ossessione. Io ne parlavo con mia moglie, lei mi diceva, se hai qualche problema vai da uno psicologo, ti aiuta. E io le rispondevo col cazzo che vado da uno psicologo. Guarda che l'analisi non è un monstro, ogni tanto le aiuta veramente. Sì, lo so, però a me non serviva, ecco. Poi mi era passata e... E dicevo, vedi, allora ce la faccio, allora niente mi può toccare. Questo fa di me un poliziotto con i controcoglioni, no? Poi quando noi non riuscivamo ad avere figli, io e mia moglie, io ripensavo a tutto quello che succede qui dentro. A me non avere figli mi ha distrutto, mi ha distrutto. Non ce la faccio, io i bambini non li posso vedere, non li posso vedere. Però quando sento queste cose, quando vedo le foto, quando escono questi casi, quando vedo questi pezzi di merda che fanno quello che fanno, io mi metto nei panni dei genitori, capito? Io mi metto nei panni dei genitori, dico, che cazzo avrei fatto io al posto loro? Ecco, forse i bambini, sì, mi impressionano. Forse è stato meglio così, allora.